Il Museo d'Arte Sacra della Marsica è ospitato in nove sale all'interno del castello Piccolomini di Celano, in provincia dell'Aquila, importante centro culturale della Marsica in Abruzzo. Il castello venne fondato alla fine del 1300 dalla famiglia Berardi, proprietaria della contea di Celano e successivamente completato nella metà del 1400 dalla famiglia Piccolomini che le succedette. Nel cortile sono visibili i resti di affreschi del 1400 mentre alcune sale al piano terra ospitano la sezione archeologica. Contiene anche il Museo Diocesano che è stato allestito in collaborazione con la Diocesi dei Marsi. Al primo piano inizia la visita al museo con le sale che raccolgono le maggiori espressioni artistiche della Marsica di scultura, pittura, orificeria e tessitura dal 300 al 1700. Le sale sono così strutturate, pittura, scultura, orificeria, paramenti sacri e sezione archeologica. Poi c'è la collezione Torlonia, ospitata nella sezione archeologica che consiste di 184 oggetti e 344 monete bronze di epoca romana, tutte opere recuperate durante il prosciugamento del lago del Fucino, operata appunto dalla famiglia Torlonia. Molti i reperti provenienti dal sito di Lucus Angizie, anch'esso un sito posto nella conca del Fucino. La collezione archeologica proviene dagli scavi effettuati nei territori di Avezzano, Luco de Marsi, Collarmele, Alba Fucens e San Benedetto de Marsi. La sala dei reliquiari d'argento contiene paramenti liturgici in argento e oro, ostensori, contenitori di ostie e d'incenso, pissidi e contenitori con coperchi riccamente elaborati da rilievi. In gran parte provengono dalla chiesa di San Pietro in Alba Fucens, precedentemente esposti nel museo di Palazzo Venezia a Roma. Altri reperti sono fodere di messali in lamine d'oro lavorate e cesellate di pietre preziose, alcuni con scene istoriate come la crocefissione. Infine c'è una sala dei giochi di una volta, recentemente allestita presso il vestibolo del chiostro con pozzo. Consiste nell'esposizione dei giochi in legno e in pezza del 1900, insieme a libri di studio, sussidiari ed abecedari per la scuola elementare di una volta.